Grazie a Carine che ci ha invitato. E' la prima volta che sono qui, dopo tantissimi anni che mancavo, quindi presento, loro sono da quattro anni che mi seguono, siamo grandi ma hanno solamente 16 anni, hanno iniziato a 12, quindi direi che si sono sviluppati bene nel suo tempo. Presentiamo un grano di salsa, loro siamo Lady Movida Baila, un grande acconso però. E siamo in fondo, si state a sentire le mani. Grazie a tutti. 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 Oh, grazie dell'applauso allo scuola bovina loca, volevo precisare che io a 16 anni non ero così. E le voglio presentare singolarmente, parto da destra, Tonsania, la gemella, Siria, e Cenebra. Grazie, veramente un grazie di cuore, stanno studiando tantissimo. E spero che sfideranno ancora veramente tanto.